Benvenuto in questo tutorial che ti aiuterà nella configurazione della rete che il connettore MPS Monitor dovrà scansionare. Il software è in grado di autoconfigurarsi, rilevando le stampanti all'interno della stessa rete in cui è presente l'installazione su PC. Tuttavia a volte può essere necessario modificare il perimetro di scansione del connettore e inserire altre reti. Questo permetterà di raccogliere i dati di tutte le stampanti presenti, anche se non sono sulla stessa sottorete del connettore. Per modificare il perimetro di scansione, seleziona il cliente da configurare, poi clicca su Connettori nel menu a sinistra. Dalla pagina Connettori clicca sul nome della configurazione default, che è stata creata automaticamente dal software. Adesso, nel riquadro Reti da monitorare, clicca su Aggiungi. All'interno del campo in Porta sottoreti deve inserire le sottoreti in cui si trovano le stampanti da monitorare. È possibile inserire più sottoreti a patto che siano tutte raggiungibili dal PC dove è presente il connettore. Il perimetro IP da scansionare deve essere simile agli esempi indicati nella pagina. Qui puoi vedere un esempio di come impostare al meglio il range di scansione del connettore. Per eliminare un perimetro di rete e un IP errato, basta fare clic sul pulsante Elimina e poi su Aggiungi per inserirne uno nuovo. Ritornando all'interno della configurazione, puoi aggiungere o modificare gli orari di scansione del connettore. Per farlo, nel riquadro Orari di rilevamento dati, clicca su Aggiungi. Seleziona l'orario che desideri inserire e clicca su Aggiungi. Grazie per aver seguito questo tutorial di MPS Monitor. Grazie per aver guardato il video.